La palla a volo ancora protagonista, il grande volley internazionale torna a Bari con ottavi e quarti degli europei maschili. Nella sala giunta di Palazzo di Città a Bari è stata presentata la fase dei campionati europei maschili che si giocheranno al Palaflorio nel capoluogo pugliese la prossima estate e che verranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord. Previsti dal 28 agosto al 16 settembre 2023, le tappe saranno Roma, Perugia, Ancona e Bari con le finali in programma a Bologna. Intanto Bari non poteva mancare dagli europei, sono nuove città, tra l'altro anche tutte città importanti, però è chiaro che Bari al di là dell'affetto, al di là di quello che ha dato anche alla nazionale in questi anni, ricordiamoci che abbiamo fatto dei mondiali incredibili, abbiamo fatto una qualificazione ultimamente che tutti quanti ricordano, credo che ci siano tutte le condizioni per prendere un ottavo, un quarto di finale perché sono le prime partite dentro o fuori, quindi abbiamo necessità di avere il pubblico tanto, ma soprattutto il pubblico caldo per poter spingere gli azzurri. Allora, intanto come sempre per Scaramanzia, siccome si giocano gli ottavi e i quarti, bisogna pensare prima a qualificarsi, ma sono fiducioso di poter venire a Bari e giocare. Che effetto fai? Allora, per me è la prima volta chiaramente da allenatore della nazionale che gioca in Puglia, quindi sarà sicuramente una grande soddisfazione, oltre che emozione normale, però una grande soddisfazione perché la mia storia nasce in Puglia da giocatore, è una storia lunga e quindi sono contento che adesso si possa chiudere un cerchio di arrivare come allenatore nazionale e giocare un momento comunque importante del torneo europeo nella terra. La federazione Volley ci ha abituato in questi anni a portare a Bari delle manifestazioni internazionali di livello importante, ma quest'anno è più bello perché arriva da campione del mondo. L'11 settembre in quel palazzetto polacco la nazionale ha fatto sognare tutti quanti noi attaccati al teleschermo quando ha vinto il campionato del mondo. Noi lo ospiteremo all'interno del Palaflorio anche facendo dei lavori in questi mesi per rifare l'impianto di climatizzazione e l'efficientamento energetico della cabina elettrica per cercare di avere anche sugli spalti e anche all'interno della struttura sportiva lo stesso livello, lo stesso alto livello che avremo in campo con le nazionali più forti al mondo e noi ospiteremo alcune partite degli ottavi e dei quarti per un totale di sei partite tra la fine di ottobre e gli inizi di settembre.